No, non devi fare una cosa, non devi vedere perché... Eh, se è pernuda, prendete un video. E si comincia a tornare a dividere un po'. Stringhendo un po' con il mare. Un po' è un bel video a me, a me nello scendomino. Non c'è sapato, non c'è, non c'è un po' a YouTube. Ti metto un po' a YouTube, ma non c'è un po' a YouTube. Facciamo un po' a YouTube. E' il test di noti. Il test di noti. Il test di noti. O concentra in moti. Porti, ti metto un po' a YouTube.